Come smettere di mangiarsi le unghie? Ecco, questo è un tutorial che si rivolge a chi purtroppo soffre di onicofagia. L'onicofagia è quella, chiamiamola, caratteristica che fa parte di un essere umano secondo la quale appunto si mangiano le unghie. Per smettere di mangiarsi le unghie è molto semplice. Il mio consiglio è quello di andare a utilizzare il peperoncino che dovrà andare a essere messo nelle unghie stesse. In questo modo, in questa maniera, si ha la possibilità di evitare che una persona si mangi le unghie. Quindi il mio consiglio qual è, tradotto in parole povere? Andare a utilizzare il peperoncino rosso, metterlo, spargerlo sopra le unghie e far sì che in questo modo il peperoncino faccia deterrente e si eviti che un essere umano, diciamo così, vada a mangiarsi le unghie. Questo è il trucco essenziale che secondo me sta alla base per evitare che una persona si vada a mangiare le unghie. E' un trucco questo utile, buono, positivo, perché in questo modo il peperoncino stesso piccando, creando, diciamo così, quel piccamento, quel piccore, quella, chiamiamola, quel saporaccio sgradevole ecco che una persona avrà difficoltà a mangiarsene. Altro trucco è quello di utilizzare le mani andandola in tingere in una soluzione come l'aceto che fa male e, diciamo così, non piace, anche perché ha un odore sgradevolissimo. Grazie a voi utenti di YouTube, al prossimo video che studiamo i miei consigli sono. Iscrivetevi, mi raccomando.